Asistente, Domenego Matteo! Presente! Agente scelto, Rotta Pierluigi! Presente! L'abbraccio, i nomi urlati, le lacrime, i silenzi. Come un anno fa i colleghi di Matteo e Pierluigi si stringono in un saluto, tutti uniti come una squadra, una famiglia, quella famiglia che ha perso due figli, due stelle, che ora ci guardano dall'assù. Mentre qua giù, sotto la targa loro dedicata, la nuova via Rotta è Domenego, quella della questura, nessuno a Trieste li dimentica, anzi, oggi tutti li abbracciano, soprattutto coloro i quali li frequentavano ogni giorno, si scambiavano i saluti, scherzavano e con la divisa addosso affrontavano con professionalità il proprio mestiere. Lo stesso che oggi viene applaudito, omaggiato, quello che tutti devono rispettare, perché è a quei tutti che è rivolto l'impegno di donne e uomini delle forze dell'ordine, mattina, pomeriggio e sera, tra caserme e strade, confini e piazze, giardini e case. La casa della polizia adesso è cucita dai loro nomi, la questura di Trieste, nella via dei figli delle stelle, la via Matteo de Menego e Pierluigi Rotta, agenti della polizia di Stato caduti in servizio il 4 ottobre 2019. la via dei figli delle stelle,